Taccuini De Osterie, l'ultimo libro della collana di Taccuini Storici, un libro che riguarda il cibo dei viandanti nella storia. Shady Asbun, hai collaborato con le ricette. La ricetta che andiamo a fare ora è risotto alla milianese, come non metterlo nelle nostre ricette, è proprio un risotto classico della tradizione italiana. Ma perché poi il cibo dei viandanti, questi arrivavano in Italia, dal nord arrivavano a Roma, quindi voglio dire, incontravano tanti luoghi, il riso e un piatto preferito del nord d'Italia. Che poi è diventato un master anche della cucina attualissima, però è molto molto antico anche questo piatto. Allora, facciamo vedere gli ingredienti. Partiamo con una base di soffritto fatta con del burro o dell'olio, meglio il burro, diciamo che questo piatto ha come piccoliarità il burro. Perché viene dal nord e il burro è molto più presente. Altrimenti possiamo usare tranquillamente l'olio. Facciamo il nostro soffritto con la cipolla, il nostro riso carnaroli, per fare questa ricetta è l'ideale, se non potremmo utilizzare del vialone enano. E' un buon risotto il carnaroli, patente. Sicuramente non del parboiled. Vino bianco per sfumare, lo zafferano in pistilli. Che abbiamo già messo lì perché se no non avremmo avuto questo bel colore giallo. Oro. Sale e pepe per sfumare e alla fine andremo a mantecare nuovamente il riso con parmigiano e burro. Andiamo. Mettiamo il burro. Un pezzettino solo perché l'altro pezzettino ci serve per mantecare. Ah, va bene. Io abbondavo. Abbondavo. Voilà. Vai. Buttiamo la nostra cipolla per far profumare. Bisogna farla profumare senza farla bruciare. No perché se no dopo si vedono nel riso quei pezzettini marroncini che appunto è la cipolla che si è un po' sbruciacchiata. E che vogliamo dire di questo libro? Le ricette insomma sono molto semplici. Semplici da fare, da riprodurre. O sia per come ingrediente, sia per la stocionalità, sia per le esecuzioni. Comunque sono ricette che si trovano facilmente e che si possano riprodurre anche facilmente. Diciamo anche che abbiamo abbracciato non solo geograficamente tutta l'Italia ma anche storicamente l'abbiamo abbracciata per più epoche andando a coprire tutte le epoche che abbiamo a disposizione e le varie religioni che ci abbiamo. Perché le osterie insomma sono già dagli antichi romani insomma nel periodo classico già esistevano nella loro forma particolare. Allora questa fase è molto importante. Andiamo a tostarlo questo riso dopo aver fatto questa cipolla rosolata andiamo a tostare questo riso. E questo guardate è un riso che a volte vi dicono perché non mi viene cremoso sto riso? Perché forse non usate il riso adatto perché il carnaroli durante la cottura rilascia quegli amidi quindi vi fa quella cremina che poi alla fine dà la peculiarità al risotto. Esatto. Quindi tante volte in casa usiamo il riso parboil. Andiamo a usare invece i risi buoni che ci danno la consistenza giusta. Non gli posso stare dietro, è troppo lungo. Ma in mezz'ora si fa un risotto. Ma anche meno. Ma anche meno. In realtà i tempi tecnici anche in un ristorante sono intorno ai 18 minuti quindi riusciamo tranquillamente a farlo. Ecco. Quindi andiamo a sfumarlo con il vino. Sempre. Con il nostro vino bianco. È un'operazione che ho sentito a volte stai parlando anche con le signori e dicendo ma guarda non l'ho mai sfumato. Perché a volte il risotto dice sì vabbè che ci vorrà fare. Invece serve un attimino a raffreddarlo senza esagerare. Io per quello che consiglio il vino a temperatura ambiente. E poi un'altra cosa che mi preme farlo sapere. Chi lo fa a casa? Basta che senta che il chicco sia caldo. Se non riusciamo a tenerlo tra le dita, questo ovviamente prima della sfumatura, vuol dire che il riso è tostato. Vai. Dato che abbiamo poco tempo. Comunque. Zafferano e poi metto io il riso, il brodo. Vai. Tu fai la presenza perché giustamente il nostro riso è già pronto, no? Quindi noi lo portiamo avanti. Lo arricchiamo con il brodo. Vai. E portata e proseguite, insomma, la cottura fino a che non è arrivato. Quindi questo lo dobbiamo portare, non è sufficiente tantora facciamo. Noi ovviamente l'abbiamo già preparato anticipatamente. Abbiamo il nostro riso già cotto che dovremmo, è caldo, senti che è caldo. Sì, sì. La fase finale da fare fuori dal fuoco. Scusate, è caldo. Senti che profumo. Lo andiamo a mantecare con un po' di burro e del parmigiano. Ecco, questo diciamo che è l'operazione che di solito molti non fanno. E invece la parte che lo rende più cremoso è la parte necessaria per fare la differenza in un riso. È la mantecatura. Anche perché, come in questo caso qui, questo riso prevederebbe il midollo al suo interno. Però, dato che siamo in un periodo moderno dove dobbiamo correre, meno grassi riusciamo a mettere, meno grassi diventano problemi. Ma si può realizzare un buon risotto anche senza midollo. Esatto. Andiamo a servirlo nella nostra fondina. Un risotto allo zafferano. Questo colore giallo, insomma, che richiama molto il colore dell'oro, che insomma lo zafferano rappresentava anche le doti a volte anche delle donne, no? Perché costava veramente molto. Costa tantissimo anche adesso. Quindi pochi pistilli per realizzare. Finiamo con un poco d'olio. Ecco a noi il nostro risotto alla milanese, preso dal nostro taccuino di osterie. Che è il cibo dei viandanti nella storia. Taccuino di osterie. Grazie.